Docrates, il gigantesco guerriero che compare nella prima parte dell'anime, è uno dei personaggi di cui più spesso mi viene chiesto di fare un approfondimento, di aggiungere qualcosa, perché è effettivamente una figura di cui sappiamo molto poco. E quel poco che sappiamo è spesso anche confuso da incomprensioni, equivoci e così via. Quindi vediamo di fare un pochettino chiarezza e di spiegare meglio questo personaggio. Per prima cosa diciamo l'ovvio, ovvero che Docrates è un personaggio esclusivo dell'anime, non esiste nel manga, è il primo nuovo nemico, nuovo avversario creato dall'anime in quegli episodi Führer che si colocano tra la sconfitta di Fenix e dei Cavalieri Neri e l'arco dei Cavalieri d'Argento, quindi molto molto presto nella serie. Quando compare scopriamo che era già noto sia a Pegasus che a Fenix e soprattutto Fenix ne teme la grande forza, ma anche Pegasus ammette di aver già sentito parlare di lui perché era un po' il terrore di tutti quanti nel Santuario e il Grande Tempio. In originale non dice esattamente così, però il succo è lo stesso e qualcuno a cui fama era già nota al Santuario. Docrates rivela di essere il fratello maggiore di Cassius, dell'avversario di Pegasus per l'armatura, e quindi è spinto anche dal desiderio di vendetta nei confronti di Seiya. Però questo desiderio di vendetta è tutto sommato una cosa secondaria. Il suo primo obiettivo è quello di recuperare i pezzi dell'armatura d'oro del Sagittario. Questo apre una serie di questioni, la prima delle quali è a che casta appartenga Docrates e quale sia la sua costellazione. Ora, in termini estetici viene spesso collegato a Hydra. Questo perché, per due motivi. Il primo è che la sua armatura è coperta di teste di rettile, di teste di Hydra, e il secondo è che il suo colpo segreto, il pugno di Heracle, fa comparire alle sue spalle la gigantesca figura di Ercole. E anche in originale quel colpo si chiama Heracles Moshu Ken, quindi il nome Heracle non è soltanto un'impressione, ma viene effettivamente citato anche in originale, e quella figura che compare alle sue spalle quando lui lancia l'attacco è effettivamente Heracle. Il problema però è che sia Heracle che Hydra sono costellazioni già assegnate. Hydra è ovviamente l'armatura, la costellazione di Aspides, mentre Heracle appartiene ad Argetti, io e il cavaliere che verrà introdotto molto più avanti nella serie classica, verso la fine dell'arco dei cavaliere dell'argento. Esistono due costellazioni di Hydra, Hydra femmina, che è appunto Hydra, che appunto è Aspides, e Hydra maschio Hydrus, ed è possibile, e infatti spesso lo fanno, associare Docrates all'hydra maschio. Ma, mitologicamente parlando, Hydra maschio era più un serpente, che è un mostro a più teste, e comunque anche in questo caso alla fine ci vengono in soccorso gli artbook, perché nonostante Docrates non compaia nella maggior parte di loro, non compare in tutti gli artbook basati soltanto su manga, oppure negli artbook successivi, tipo Icari, Hades e così via, ma la Cosmo Special e la Jump Cold Selection lo classificano come Sonota Saint, quindi si tratta di un altro di quei cavaliere senza costellazione, come il Maestro dei Ghiacci, che sono stati creati dall'anime. Ora, il Maestro dei Ghiacci era un cavaliere in pensione, era un cavaliere senza costellazione perché ritiratosi e quindi era stata affidata a quell'armatura, diciamo, decorativa, simbolica. Nel caso di Docrates, invece, il suo ruolo preciso viene definito essere capo della guardia scelta, della guardia privata del grande sacerdote. E a questa piccola schiera di guardia privata del sacerdote appartengono Docrates, il cavaliere della fiamma, e Virnam, il telecineta che accompagna Tisifone ed Argor durante la battaglia sull'isola Navegeo. Questa guardia scelta del sacerdote obbedisce direttamente agli ordini di Phaeton, ovviamente indirettamente agli ordini di Gigars e poi del sacerdote stesso. Quindi sono dei guerrieri, diciamo anche dei cavaliere, visto che indossano armatura, che sono al di fuori dei normali ranghi, delle normali casse del santuario e obbediscono esclusivamente a queste figure, diciamo, politiche all'interno della struttura sociale del santuario, del grande tempio. Nel caso di Docrates, lui è sicuramente il più importante dei tre, sicuramente anche il più forte dei tre, e probabilmente per questo che viene solitamente considerato il capo di queste guardie scelte a servizio del sacerdote. Gli artbook, inoltre, spesso usano per lui il termine mercenario o soldato privato. Non sappiamo se effettivamente vada inteso mercenario come un cavaliere che non è fedele a nessuno e che obbedisce al santuario soltanto in cambio di qualcosa, di uno stipendio, di qualsiasi altra cosa, o se viene utilizzato il termine mercenario, nel senso appunto di soldato privato, di guardia del corpo, al di fuori del rangono mare. Fatto sta che sicuramente Docrates non appartiene alle caste di bronzo o d'argento. Detto questo, però, secondo me, la sua forza lo categorizza ampiamente come top bronzo o anche come cavaliere d'argento. Infatti per sconfiggerlo sono necessari i sforzi congiunti di Pegasus, Andromeda e Crystal, e ci sono diverse scene in cui Docrates resiste ad attacchi che avevano avuto la meglio su cavaliere di bronzo. Per esempio la scossa elettrica della catena di Andromeda che aveva atterrato Asher, a cui non fa praticamente niente, così come non gli fa niente l'aria congelante di Crystal che aveva disintegrato Aspides, quindi sicuramente di un livello molto superiore ai normali cavaliere di bronzo, e direi individualmente anche superiore ai protagonisti in quella fase della storia. Sinceramente credo che se la possa giocare anche con alcuni cavaliere d'argento, anche se poi la crescita dei protagonisti rende difficile fare questi paragoni tra una saga e l'altra. Un'altra curiosità che riguarda Docrates è il suo nome. Infatti in intervista lo sceneggiatore Takao Koyama, che è colui che ha sceneggiato tutti i primi 73 episodi della serie dell'anime, ha affermato di essere lui il creatore del personaggio. Ovviamente tutte queste cose non venivano create così dalla sera alla mattina, ma erano frutto di meeting da parte dello staff. Koyama ammette che sono passati interi decenni, quindi la sua memoria fa un po' cirecca, però gli sembra di ricordare che il nome Docrates viene dalla fusione di Doku, che vuol dire vereno, e del nome del filosofo greco Socrates. Quindi unendo Doku e Socrates, facendo una specie di crasi, venne fuori questo Docrates. Se così fosse, tanto di cappello. Però, appunto, essendo passati tanti anni, Koyama stesso ammette di prendere queste informazioni un po' con beneficio del dubbio. Un'altra particolarità di Docrates è avere un piccolo esercito di guerrieri a suo servizio. Questi guerrieri, anche negli artbook, vengono definiti come suoi guerrieri privati. Non sono dei cavalieri, sono dei seguaci, che indossano una versione nera e semplificata della sua stessa armatura. Infatti si riproduce quella specie di decorazione a forma di idra della maschera. Sono guerrieri in grado di usare il cosmo, ovviamente molto più deboli di Docrates, però in grado di eseguire una serie di attacchi combinati che comunque gli permettono di giocarsela un po' con i protagonisti. Sono più deboli dei protagonisti, alla fine Crystal da solo riesce a sconfiggervi tutti, però neanche così deboli che sia semplicissimo farvi fuori. Diciamo che un pochettino di difficoltà la creano e vediamo anche che sono in grado di unire le forze, per esempio quando spaccano il suo ovo aprono quella grossa fenditura nella roccia che costringe Pegasus e gli altri a scappare per un po'. Quindi in questo senso, ricordiamoci che la definizione di cavaliere è i suoi pugni fendono il cevo, i suoi calci spaccano la terra, beh, diciamo che questa definizione si applica anche a questa guardia di Docrates. Come detto, nonostante i riferimenti grafici, la sua armatura non è né quella di idra né quella di erco, è mai un'armatura senza costervazione, mentre una cosa che è stata, un legame che è stato dichiaratamente espresso è quello con Cassius. Viene detto in realtà molto brevemente, Docrates afferma che Cassius è il suo fratello minore. C'è qualche somiglianza, entrambi hanno la carnagione scura, anche se Docrates sembra più abbronzato che completamente nero come invece era Cassius e Cassius più avanti non farà mai alcun riferimento alla morte di suo fratello maggiore per mano di Pegasus. Questo sarebbe stato interessante alla Quinta Casa, soprattutto in virtù del ritorno in scena di Cassius, ma ricordiamoci che quando Docrates è stato creato gli eventi della Quinta Casa non erano ancora avvenuti neanche nel manga, quindi probabilmente lo sceneggiatore si è trovato a pensare che Cassius non sarebbe mai più tornato, magari poteva essere persino stato considerato morto e ovviamente quando Cassius torna in scena qualsiasi riferimento a Docrates è del tutto assente, perché è un personaggio che nel manga non c'è e l'anime non ha voluto complicare ulteriormente le cose tirando in barro questo odio aggiuntivo di Cassius nei confronti di Seiya. Docrates stesso, a parte un volersi vendicare su Seiya per la sconfitta di Cassius, cominciando strappandogli orecchio, la famosa scena del primo episodio, non la tira neanche poi troppo per le lunghe al riguardo, quindi diciamo che è un regame che viene buttato lì, ma non viene, non se ne fa poi granchè. L'ultima curiosità riguarda la stazza, perché l'altezza di Docrates varia in misura enorme anche da scena a scena dello stesso episodio. I settei, che sono i disegni ufficiali che si occupano anche di stabilire le altezze, lo indica effettivamente come uno dei personaggi più alti di sempre, ma quanto sia effettivamente alto, è grande, è molto variabile. In alcune scene è così gigantesco che riesce ad afferrare Isabel e a stringerlo in mano, il che vorrebbe diversi metri di altezza, proveremmo di almeno un 4-5 metri, un vero gigante. In altre scene invece, per esempio, quando combatte contro i protagonisti, e tutto sommato anche nei settei, è molto più piccolo di così. È sicuramente sempre gigantesco, è sicuramente un personaggio molto alto, più o meno livello Thor di Asgard, tutto sommato, però non è questa figura immensa in grado di stringere un essere umano tra le mani. Quello, diciamo, che deve essere considerato una piccola libertà artistica di Arachia e Imeno per rendere più minacciosa la sua figura. Detto questo, Docrates è anche vittima di una delle battute più ricorrenti della serie, visto che poi è un personaggio che, da una parte, può frantumare montagne, distruggere case come se niente fosse, ma dall'altra scappa l'arrivo della poesia, perché sì, diciamo che Vinicio, la prima parte di Sensei Aya, ha un po' di queste idiosincrasie. Però ecco, questo è tutto quello che sapremmo su Docrates. È un personaggio che poi non si è più rivisto, né nei flashback, né nelle serie future, quindi non c'è granché da aggiungere, ma è un personaggio che ha comunque lasciato il segno per quanto riguarda la sua forza. Voi che ne pensate? Qualcuno che vi piacerebbe rivedere? Vorreste che venisse ripreso in qualche forma? Oppure basta così, insomma, già dimenticato? Scrivetelo come sempre nei commenti. Io vi saluto anche stavolta. Ciao!